questo è un treno antico o tutti fanno il furo? no no questa è la Faentina poi lì dove va? passa sotto la strada? non credo lì dov'è? ma dove? è scomparso il pregi io vedo un po' benissimo è giù basta sotto basta sotto però va che è un po' di marte sembra una visione d'altri tempi davvero? intervista a Nadia Nini dici siamo qui alla alla Badia Fiesolana via dei Rocchiettini 9 San Domenico di Fiesole c'è la Nadia che ci rallegra con la sua presenza dici qualcosa Nini? no stavo ascoltando il fischio del treno ti è piaciuto? sì anche quella è la Faentina che negli accordi è stata riattivata che è stata ferma un periodo ecco qui abbiamo la facciata della Badia Fiesolana incompleta c'è solo la parte iniziale ma doveva essere peccato che è chiusa ecco la Palmanana senza di Palmanana chiudiamo qui questa è la valle del Mugnone questa dovrebbe essere la valle del Mugnone il fiume di Mugnone che poi confluisce praticamente con Firenze grazie